Grande successo di pubblico ieri sera a Montenepre nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia per la quindicesima edizione del Memorial Cesare Gaglio, la manifestazione che tiene vivo il ricordo del giovane chiterrista partimicese scomparso e che ha visto la partecipazione del famoso sassofonista monteleprino salgenovese. Di scena anche Giovanni Genovese, Franco Giannola, Salvatore Pizzurro, Rosario Barretta, Nicola Giammarinaro, Franco La Rosa, Luciana Di Bella, Anna Sgroi, Grazia Buffa, Tannino Gaio, Bruno Bonadonna, I Cocktail, Antonio Console, Cristian Cavaliere, Claudio Calambretti, Marco Lobaldo, Salvatore Novena, Marco Amoroso e Aurelio Pinzello. A presentare la serata è stata Catiusca Falbo. Dopo il Memorial ad essere accontentati, sono stati palati dei tanti golosi che durante la sagra della Cassa Tedda hanno degustato i tipici prodotti a base di ricotta, distribuiti gratuitamente. Continuano intanto questa sera i festeggiamenti in onore della Santuzza, alle 18 con i Vespri Cantati e la celebrazione della Santa Messa. Alle 21 invece spazio ai ragazzi della palestra Fitness Energy Club e a seguire musica leggera con il gruppo Monteleprino degli Accademia. Domani, dopo la Messa delle 18, i festeggiamenti si concluderanno con la processione penitenziale del simulacro di Santa Rosalia. Le manifestazioni sono organizzate in collaborazione con il Comune di Montelepre e la provincia regionale di Palermo. La Santa, vista nel XII secolo al tempo dei Normanni, figlia del Duca Sanibaldo, di nobile famiglia ricevette nella sua infanzia una solida educazione cristiana. Giovanissima lasciò il Palazzo Reale, di cui era da Migella. Scelse la vita della solitudine, ritirandosi in preghiera e penitenza, da prima in una grotta sui monti della Quisquina e in seguito sul Monte Pellegrino a Palermo, ove rimase sino alla morte. Fu proclamata santa dal popolo e sul finire del secolo XII sorsero molte chiese in suo onore. La comunità Monteleprina si sta preparando con la novena che abbiamo celebrato in onore della nostra pastrona, utilizzando soprattutto le parole che lei ha scritto nella grotta della Quisquina. Per amore del Signore ha deciso di vivere una vita fortemente di penitenza e di impegno e di vita ecclesiale. Domani, poi dopo la messa vespertina, ci sarà la processione penitenziale. Per cui ecco alla nostra patrona vogliamo chiedere soprattutto che ci liberi da molti mali, ma soprattutto da quelle che sono le peste oggi, tante volte ecco in vigore, molto diffuse, quali l'alcolismo, quali la droga, quali anche tante volte ecco la mancanza del lavoro, che porta una vita poco impegnata e vogliamo proprio chiedere alla nostra santa che ci aiuti con il suo esempio. Montelepre ha anche dedicato sin dal 1625 a una chiesa a Santa Rosalia, quindi è una devozione molto forte questa nei confronti della santa. Montelepre ha proprio costruito la prima chiesa a Santa Rosalia l'anno successivo al rinvenimento delle sue osse, e quindi da circa 400 anni c'è questa forte e intensa devozione alla nostra patrona. E anche moltissime famiglie continuano a mettere proprio questo nome bellissimo, composto dal nome di due fiori, Rosa e Giglio, ecco ai loro figli, come atto di amore e di devozione verso la santa. Grazie a tutti.